Dopo una mattinata uggiosa è un timido sole ad accogliere a Vedelago i 12 carri e i tre gruppi allegorici per il Carnevale 2020. Partiti alle 14.30 circa da via Bassanese in zona artigianale, i circa 800 figuranti hanno raggiunto tramite via Papassarto Piazza Martiri della Libertà e lì, di fronte al municipio, hanno dato spettacolo con le loro coreografie. Lungo tutto il percorso, transennato come nelle passate edizioni, molti tra giovani e non hanno atteso il transito dell'allegro serpentone e se sfilare fa venire fame, pazienza, ci sono ancora i rimasugli delle feste natalizie da finire. Tra nuove creazioni e carri ormai noti, in molti si sono ispirati ai personaggi Disney, un evergreen che vede in pole position biancaneve con topolino e paperino. Dalla terra alle stelle la distanza è breve e pazienza se si cade, bisogna sempre sapersi rialzare e proseguire, come il gruppo di Silea che nonostante il carro fuorigioco ha ugualmente preso parte alla manifestazione. Giovedì su Premium 2, la sintesi dell'evento. Sfice Marcianel News vede l'ago. Giovedì su. Giovedì su sospetto. Grazie a tutti.